ciao a tutti come state tutto bene oggi un video corto vi faccio vedere lo stato qui in provincia di bologna l'alluvione che è in corso questo è il torrente zena località pianoro di norma è quasi asciutto giusto un torrentino qui di solito non c'è più di mezzo metro di acqua e continua a piovere stato di emergenza